Ben quattro ore di confronto tra il GIP Marco Gaeta e l'armatore Ettore Morace, arrestato venerdì scorso nell'inchiesta Mare Mostrum. Morace ha respinto le accuse di corruzione per le quale è indagato, chiarendo i rapporti con il candidato a sindaco di Trapani, Girolamo Fazio, anche lui ai domiciliari, come il funzionario regionale Giuseppe Montalto e l'ex sottosegretario alle infrastrutture Simona Vicari, dimessasi nello stesso giorno. Il terremoto giudiziario, in seguito anche al coinvolgimento del governatore Rosario Crocetta, adesso sta travolgendo anche Messina. La procura di Palermo aveva chiesto l'arresto dell'armatore di Lipari, indagato anche lui per corruzione, Sergio Lacava, legato al gruppo Franza, i soci concorrenti di Morace. Il giudice ha però respinto la richiesta perché intende accertarsi di un dossier in mano al carabiniere Orazio Ginsabella. Lacava avrebbe infatti incaricato il sottoufficiale dei carabinieri Ginsabella di fare un'attività di dossieraggio per danneggiare Morace, in cambio, secondo la magistratura palermitana, dell'assunzione della figlia presso la Caronte in Tourist. Indagato Vincenzo Franza, patron del gruppo che gestisce il traghettamento in riva allo stretto, è socio nella Siremar proprio con Morace, che dovrà spiegare adesso le modalità di questa assunzione risalente all'anno scorso. Anche in questo caso, gli investigatori si sono avvarsi delle conversazioni telefoniche tra l'imprenditore oliano e il carabiniere, in cui proprio Lacava riferiva di aver parlato con i Franza, mostratisi disponibili per l'assunzione.